Giovedì 12 marzo, buongiorno, benvenuti a questa nuova edizione della rassegna stampa Occhio ai giornali sul 17 di Fano TV, sono le 7.41 e siamo ancora in una collocazione oraria un po' diversa rispetto agli altri giorni perché come sapete hanno inserito in palinsesto la messa da Santa Marta del Papa e quindi alle 7 c'è la Santa Messa da Città del Vaticano e poi dopo arriviamo noi con la rassegna stampa e le consuete repliche previste nel corso della mattinata poi alle 18 invece la messa in diretta sempre però questa volta da San Giovanni Rotondo, questo almeno fino a sabato Andiamo a vedere il Santo del Giorno, oggi la Chiesa ricorda San Luigi e Orione, il sole è sorto alle 6.24, tremontarà alle 18.11 il cielo sarà sereno poco nuvoloso con temperature in aumento, domani cielo nuvoloso con aumento delle nuvole nel corso del pomeriggio temperature stazionari è un lieve aumento, mentre per sabato 14 ancora cielo parzialmente nuvoloso con nuvole stratificate temperature minime in aumento, le massime invece in lieve diminuzione l'alta pressione continuerà a mantenere il tempo stabile su tutta la regione Marche Andiamo a leggere i giornali, Corriere Adriatico, il resto del Carlino, l'edizione di Pesero apre con la notizia che è arrivata ieri sera con l'annuncio del Premier Conte di questa nuova ordinanza del Governo che da oggi chiude bar, ristoranti e molti esercizi commerciali restano aperti alimentari e farmacie, garantiti i servizi essenziali intanto nella nostra regione si segnalano altri 4 morti, 479 sono i contagiati attenzione si abbassa però anche l'età delle vittime, questo è il titolo con la fotonotizia a centro pagina del Corriere Adriatico il resto del Carlino invece la spesa la facciamo noi, la protezione civile aiuta gli anziani soli che non possono uscire di casa arrivano circa 30 chiamate al giorno al servizio che si chiama Mi Spendo per Te che è ideato dal Comune di Pesero, siamo andati a vedere come funziona e a consegnare le buste nelle case dei volontari il virus avanza, altri 4 morti nelle Marche, anziani con malattie pregresse ma preoccupa l'escalation di contagi positivi anche due persone dello staff della VL le marche chiuse per Covid, aperti alimentari e farmacie, l'annuncio del Premier Conte sono garantiti tutti i servizi primari, lo stop fino al 25 di marzo continuano ad aumentare i positivi al virus, ieri erano 479 sale anche il numero dei decessi a 22 sanità verso il collasso, richiamati 14 medici e infermieri in pensione l'Asur cerca personale per l'assistenza nell'unità Covid ospedaliere un'emergenza dunque nell'emergenza con turni infiniti che minano il fisico e la lucidità mentale rischiano di compromettere anche l'immenso impegno nelle trincee ospedaliere che cosa fare e che cosa non fare invece sono le due pagine che vi faccio vedere questa mattina sul Corriere Adriatico le mettiamo tutte e due insieme così le potete vedere a colpo d'occhio chiaramente bisognerà andare in edicola e approfitto per dire che le edicole sono aperte quindi potete andare in edicola a comprare i quotidiani questa mattina e quindi approfondire un po' le varie tematiche perché sia in televisione sia su internet e anche in radio è difficile star lì o spiegare tutto nel dettaglio i giornali servono a questo, a spiegare la notizia torniamo alla vecchia filosofia di un tempo quindi i giornali servono anche a questo ed è bene acquistarli per approfondire e capire un po' meglio come stanno le cose andiamo avanti, morti altri 4 pesaresi Marche Nord satura e caccia al personale nuovo, non si trovano infermieri disposti ad accettare un contratto di 3 mesi in condizioni estreme pronto il bando per assumere medici intanto rientra la dirigente in pensione di rianimazione c'è il farmaco della speranza testato anche a Fano si chiama Tocilizumab e viene utilizzato contro l'artrite reumatoide dal Pascale di Napoli chiesta la redazione di un protocollo nazionale ora questo farmaco ha dimostrato di essere efficace contro la polmonite da Covid-19 a Napoli sono stati trattati i primi 4 pazienti in Italia in 24 ore la terapia ha evidenziato ottimi risultati apriamo una piccola parentesi in questa rassegna stampa per dire che siccome ieri abbiamo battuto questa notizia anche sul nostro sito perché era già stata diffusa anche da altri organi di informazione a livello italiano qualcuno ha già preso il telefono ha chiamato, ha scritto, è andato in farmacia chiedendo questa medicina questa scatola di medicina chiaramente non è un farmaco che potete andare a comprare in farmacia e prenderlo come se fosse l'aspirina o la tachipirina a parte che costa 1400 euro a scatola se non ho capito male o visto male ma comunque sopra i 1000 euro e poi comunque, ripeto, è una cosa che viene gestita soltanto a livello ospedaliero quindi toglietevelo dalla testa di poter andare tra poco in farmacia e dire ho visto in televisione che ho letto sul giornale che c'è questa medicina per guarire dal coronavirus me ne dia una scatola ecco, semmai potete andare via con una risata del farmacista ma non di più città impaurita le strade, il centro, i quartieri appesero tutto si svuota già dal mattino alla protezione civile sono arrivate oltre 50 chiamate in poco tempo se ci si incontra sul marciapiede si tende addirittura a cambiare percorso e lungo la pericolosa e caotica statale 16 c'è il crollo della circolazione e il Corriere fa mette in luce un po' la situazione che si è creata in questi giorni in queste ore di città che appunto sono a volte deserte o semideserte resta però il fatto che ci sono molti giovani ancora che hanno preso questi giorni come un primo di maggio prolungato sul discorso invece delle mascherine anche qui fate attenzione l'altro giorno ho parlato di un distributore di mascherine le mascherine mettiamocelo a testo una volta per tutte le mascherine non ci sono da nessuna parte è inutile che le cercate è inutile che andate in farmacia è inutile che tempestate di telefonate messaggi ai farmacisti magari che conoscete di cui sapete magari il numero di cellulare non ci sono mascherine in questo momento non le cercate perché non esistono non ci sono quindi toglietevelo dalla testa mascherine gel farmacisti e farmacie intasate c'è qui l'appello di un farmacista appunto che è Giulio Salvi della farmacia che si trova in via Recanati a Tombaccia di Pesaro dice vi chiedo la cortesia di non scrivermi più in privato per mascherine gel o quant'altro abbiate pazienza ma attualmente noi farmacisti siamo in emergenza e non ho nemmeno il tempo di rispondervi grazie a tutti per la conversione scritto già le farmacie sono in emergenza è inutile continuare a cercare delle mascherine professionali e non mancano i disagi perché gli ingressi all'interno della farmacia sono così come in altri posti dove sono attualmente aperti contingentati cioè si può andare un po' alla volta anche per andare a fare la spesa bisogna fare delle file fuori a distanza di sicurezza per andare a fare la spesa ci vuole un paio d'ore adesso perché si entra un po' alla volta l'amore ai tempi del contagio globale Magnini e Palmas rinviano le nozze si dovevano sposare alla fine del mese con il rito civile alla Villa Reale di Monza Filippo Magnini, notatore pesarese e Giorgia Palmas ma sono stati costretti a causa del coronavirus appunto a rinviare le nozze mentre attenzione perché continuano, continueranno anche oggi i controlli, i controlli da parte di polizia carabinieri, guardie di finanza, polizia locale se dovete uscire di casa ieri Borrelli ha alzato il tiro perché inizialmente c'era scritto, si era detto che si potevano andare a fare le passeggiate portare a passeggio il cane l'importante è essere separati eccetera ma siccome poi la gente ne approfitta e quindi la passeggiata col cane diventa una scia di persone che in comitiva vanno a fare le scampagnate ecco, ieri Borrelli è stato molto chiaro per uscire di casa anche a piedi non lo dico io, lo dice il capo dipartimento della protezione civile nazionale ha detto ci vuole l'autodichiarazione, l'autocertificazione quindi dovete tenerlo in tasca ieri ci sono stati controlli della polizia chiedo scusa Riccardo se mi giro ma ecco, ci sono stati controlli a Fano abbiamo dei video che non vi abbiamo fatto vedere chiaramente ma la polizia è intervenuta per esempio nel quartiere Sant'Orso per disperdere, tra virgolette disperdere un gruppo di ragazzini che aveva approfittato della bella giornata di sole per giocare come se nulla fosse ora, essendo in emergenza anche questi giovani questi ragazzi che mi rendo conto è difficile tenere dentro casa che i genitori fanno fatica a tenere dentro casa ma devono sapere che rischiano ecco, ok? allora, intanto ieri ci sono state tre denunce dobbiamo dire che ci sono state tre denunce quali sono queste tre denunce? per quali motivi? allora, intanto in un caso un foggiano ultra sessantenne è stato fermato per un controllo e ha spiegato di essere a Fano per incontrare alcuni amici ovviamente una giustificazione ritenuta troppo generica e di conseguenza è stato denunciato all'autorità giudiziaria stiamo parlando di denunce la stessa sorte è toccata invece ad un altro uomo anche lui, un italiano che a sua volta non ha saputo fornire una spiegazione credibile alla sua presenza qui in città a Fano l'ultima denuncia l'ha presa un giovane della zona che ai militari in servizio della compagnia fanese e quindi i carabinieri ha risposto dicendo che andava a Pesaro perché era intenzionato a vedere di persona una motocicletta da acquistare e quindi si è preso la denuncia ancora c'è un'altra cosa dovevo dire a proposito di autocertificazioni perché poco fa ha chiamato anche qui hanno chiamato continuiamo anche noi a rispondere laddove è possibile ai messaggi e alle telefonate allora chiaramente non tutti a casa hanno una stampante quindi se dovete uscire e non avete l'autocertificazione non preoccupatevi se dovete andare a fare la spesa o comunque fare cose per le quali sapete che potete uscire e non avete l'autocertificazione non è la fine del mondo perché non tutti hanno una stampante di conseguenza ve la daranno nel caso in cui veniste fermati veniate fermati ve la daranno gli agenti o carabinieri polizia insomma le forze dell'Une e poi lo compilerete lì seduta stante va bene c'è il primo contagiato questo è ad Ascoli Piceno in gravi condizioni arriva dalla zona rossa l'ascolano di 64 anni vive in una piccola frazione ed è tornato dalla Valtelline in ospedale cominciano a scarseggiare i tamponi utilizzate 10.000 mascherine Ascoli Piceno fino a ieri era completamente libera da contagi abbiamo perso un sacerdote fatto di bontà invece la commozione di Don Michele dei parrocchiani a Cattabrighe che ricorderà appena possibile Don Graziano recentemente scomparso crollano i valori delle polveri sottili gli sforamenti si fermano a quota 21 da settimane i numeri della centralina di via Scarpellini si attestano su dei dati molto bassi trovato morto purtroppo il corpo senza vita di Anton era scomparso da domenica scorsa una task force di 33 uomini lo ha cercato per 24 ore si era impiccato ad un albero nel bosco è stato un vigile del fuoco ad alzare lo sguardo e intravedere nascosto tra le fronde di un pino questo giovane senza vita alle 7.30 di ieri mattina quando tanti temevano che appunto fosse morto purtroppo questa ipotesi è diventata una realtà questo giovane di 22 anni tedesco scomparso da domenica aveva fatto la sua scelta probabilmente già dal giorno della scomparsa impiccandosi ad un ramo interno della grande pianta e poi l'altra notizia di cronaca armato di un coltello rapina la tabaccheria è successo dopo la 19 il bandito ha portato via 3.000 euro dalla cassa è successo a gradara apriamo il resto del carlino il contagio non è partito da mia nipote parla il genero della vittima che racconta il dramma della famiglia Cornacchini siamo a Fano due morti due positivi uno in quarantena e una ragazza a pezzi la ragazza a pezzi è la ragazza che è stata additata come l'untrice la ragazza di Milano che è una voce di quelle che si sono diffuse come spesso purtroppo succede voci incontrollate è successo appena a Fano si era diffusa la voce che c'erano due persone contagiate dal coronavirus e poi quando si è saputo che le due persone erano Giannina Sanchioni Cornacchini e il marito Saverio Pesce tutti a dire che era stata la nipote a contagiarli perché viveva e vive a Milano ora la famiglia che già ha pagato un prezzo altissimo perché nel purtroppo sia Giannina che Saverio sono morti quindi poi tutto quello che ne consegue persone che sono finite all'ospedale gente che è rimasta in quarantena insomma una famiglia più di una famiglia che sta vivendo un dramma inimmaginabile e ora qualcuno ha pensato giustamente e noi lo rilanciamo attraverso il giornale questa mattina sperando di dare il nostro piccolo contributo rilanciamo questa cosa la ragazza questa ragazza di Milano non c'entra nulla non c'entra non è lei che ha contagiato questi due questa coppia di coniugi che adesso non c'è più non è lei la ragazza dice ha visto mia suocera un mese prima che si ammalasse poi dice ancora Giacomo Iannelli che ha telefonato evidentemente al giornale per per mettere un attimo fino a questa storia terribile mi ha anche chiamato racconta lui un politico locale per dirmi che quello che era accaduto era legato a mia nipota arrivata da Milano ed ho avuto la sensazione invece che fosse un modo per coprire un possibile focolaio locale forse scaturito dal fatto che molti fanesi hanno assistito a Pesaro alle final eight di basket con migliaia di persone arrivate dal nord Italia e tutti sanno a Fano che mia suocera e il suo compagno la mattina essendo molto aperti quando andavano al bar salutavano e abbracciavano praticamente tutti quanti quindi potrebbero anzi sicuramente l'hanno preso in questa occasione qua e mia nipote non c'entra dunque assolutamente nulla e allora questo è un invito e lo facciamo sperando che poi col tempo le cose si sistemino lo diciamo ci soffermiamo ancora un pelo un pochettino per dirvi appunto questa cosa e poniamo fine a questa voce si torna a partorire invece all'ospedale Santa Croce a Fano anche i reparti del San Salvatore infatti sono concentrati nel presidio cittadino dopo il trasferimento di una settimana fa si nascerà dunque solo a Fano pensate che una settimana fa invece la cosa era il contrario la notizia era si nascerà solo a Pesaro invece siccome a Pesaro verranno trattati appunto i casi di coronavirus eccetera eccetera la direzione sanitaria ha deciso di trasferire il punto nascite a Fano quindi si nascerà solo Fanesi per quanto tempo non è chiaro sicuramente fino a quando non saranno superate questa situazione di emergenza tutti comunque hanno collaborato perché il trasferimento avvenisse con il minor disagio possibile per le mamme e per i bambini il virus fa altre quattro vittime siamo sul resto del Carlino ancora i contagi raddoppiano la fosca previsione di Ceriscioli che dice i deceduti sono tutti anziani tre uomini morti a Marche Nord una donna di 87 anni ad Urbino salgono a 22 le vittime nelle Marche 19 solo nella nostra provincia ma come dicevamo Ceriscioli vede l'imminente futuro un po' grigio anzi piuttosto nero perché dice ci dobbiamo aspettare comunque una impennata e queste sono non sono previsioni sono anche calcoli a volte calcoli matematici c'è molta matematica dietro a tutto questo quindi per dire che insomma tutto quello che si fa che fanno non è così improvvisato o pare che sia improvvisato ma non lo è affatto positivi due dello staff della VL uno di loro dice a vivo tra alti e bassi contagiati nel corso di una cena per la quale altre persone sono diventate positive contatti con i giocatori non ne ho avuti io e l'altro mio collega siamo a casa in quarantena intanto parla anche Tessiore che è il giocatore vedete qui sotto della Vispesaro centrocampista sto bene dice non ho più la febbre e sono tranquillo mentre la coppa del mondo di ginnastica slitta ai primi di giugno distanti ma vicini la solidarietà bussa alla porta un giorno con i ragazzi del progetto mi spendo per te che portano la spesa e i farmaci ad anziani e persone in quarantena il responsabile dell'ipermercato dice vogliamo dare anche noi il nostro contributo e Pesaro fa da apripista ora Conte chiude tutto il sindaco dice nella nostra città c'era già stata un'auto limitazione un po' come è avvenuto anche a Fano vedo una responsabilità diversa ma sono anche preoccupato una nuova scuola per piagge invece con Nido Montessoriano ospiterà i bambini da 0 a 6 anni nell'area dell'ex campo da calcio pronto il progetto definitivo ma non ancora quello esecutivo l'appalto comunque arriverà entro l'anno mentre la spesa è a domicilio ma se serve facciamo anche la fila alle poste da Fano ci sono questi ragazzi che si stanno dando da fare anche con altri servizi improvvisamente diventati molto richiesti soprattutto per gli anziani che sono isolati in casa a causa dell'emergenza contagio abbiamo mascherine dicono loro e guanti per proteggere noi ma anche i clienti che hanno tra i 70 e gli 80 anni mentre sempre il Carlino ricorda questa 72enne che è deceduta lunedì positiva al Covid-19 luttava contro un tumore Angela Anima della Proloco Angela Moretti che è morta all'ospedale di Pesaro era lei che si occupava delle scenografie dei costumi del mercato antico di San Rocco rapina col coltello ruba l'incasso e fugge altri titoli dal giornale colpo da 2500 euro ieri sera poco prima delle 19 alla tabaccheria Panicali Mirella di Gradara la figlia della titolare è stata minacciata con un'arma mentre c'è stato un furto in appartamento in via Madonna di Loreto a Pesaro il ladro dimentica però un guanto e dunque i carabinieri lo identificano con il DNA è un ladro un po' sbadato pregiudicato che aveva rubato gioielli e preziosi di famiglia in questa casa a Pesaro le indagini sono state portate avanti con il RIS mentre si parla anche qui dei controlli dei carabinieri da Foggia a Spasso Perfano multato per il divieto coronavirus 206 euro e denuncia ad un uomo che ha dichiarato che voleva visitare gli amici tra la Romagna e le Marche mentre per quanto riguarda le elezioni regionali c'è stata la votazione sulla piattaforma Rousseau per quanto riguarda le 5 stelle Marta Ruggeri Fanese verso Ancona l'esponente dei 5 stelle è risultata la più votata della provincia alle regionarie e si candiderà come consigliera mentre tutto fermo salta lo storico mercato di Orciano è arrivata la direttiva della prefettura per evitare la formazione di assembramenti passeggiata in bicicletta passeggia in bicicletta si accascia sul ponte muore una 52enne per un arresto cardiaco siamo a Senigallia la vittima è Cristiano Andreoli 52enne che viveva nelle case popolari probabilmente stava tornando a casa stava pedalando dal corso verso Via Carducci era solo nessuno può dirlo con esattezza come sia morto ma comunque alla fine si è accasciato improvvisamente martedì sera e purtroppo non si è più non si è più ripreso questa è la pagina di Senigallia da Urbino invece Casa Raffaello rimane chiusa si lavora per il dopo il presidente dell'Accademia Luigi Bravi è preoccupato per le perdite economiche dobbiamo tutelare dice gli stipendi dei dipendenti sotto invece Gambini che risponde all'opposizione replica la minoranza sul coronavirus non la vedo come Sgarbi sapete Sgarbi ha una pagina Facebook dove fa dei video a volte un po' sopra le righe in questi casi ha una sua visione tutta tutta sua sul coronavirus la minoranza siccome Sgarbi è anche prosindaco del comune di Urbino la minoranza dice ieri aveva detto fermate Sgarbi prendete le distanze da quello che sta dicendo sul coronavirus Gambini oggi risponde non la vedo come lui però prima mi davate contro ora mi date ragione solo per le sue dichiarazioni anche Valentino Rossi dona fondi all'ospedale è nata l'associazione insieme per Marche Nord un forte sostegno arriva dalla fondazione Cassa del Risparmio di Pesaro anche l'ordine dei commercialisti ed esperti contabili offre aiuti su più fronti ma come abbiamo visto anche da Fano sono arrivate tante tante donazioni ieri nel telegiornale abbiamo anche ricordato che per esempio la Profilglas che è la più grande azienda che abbiamo qui a Fano ha dato un sostanzioso contributo proprio a Marche Nord per fronteggiare questa emergenza è tutto per quanto riguarda la nostra segna stampa del mattino grazie per averci seguito come sempre vi auguro una buona giornata vi ricordo il nostro numero di telefono che è il 338 4968 250 vi ricordo che abbiamo il nostro sito internet sempre aggiornato e anche il canale Telegram dove sia sul sito ma anche sul canale Telegram intorno a mezzogiorno o comunque appena arrivano i dati dal Gores che è il gruppo operativo per l'emergenza sanitaria marchigiano dove arrivano i dati aggiornati sulla situazione del coronavirus noi ve li rigiriamo in tempo reale praticamente quindi vi diamo le informazioni di primissima mano quindi se volete consultate il sito internet oppure unitevi al canale Telegram scaricate l'applicazione e vi unite a noi e per il resto invece ci vediamo stasera alle 20.30 arrivederci a presto